Ecco, qui in Casa Verdi, come in tutte le altre case di riposo, è la stessa cosa. Ognuno di noi detesta l'altro, ma lo compatisce, disprezza la sua debolezza, rispetta il suo dolore. E quando questo diventa così forte da farlo urlare, è pronto a correre in aiuto, trascinando le sue ciabatte e agitando nell'aria le mani tremolanti. Siamo tutti quanti matti, svaniti, egoisti, migliosi, ma siamo finiti qui dentro senza altra colpa che non sia quella di avere vissuto. E' qui dentro, come in trincea, si ha paura e si muore. Solo che a noi nessuno darà mai una medaglia, né ci ringrazierà per la nostra sofferenza. Ed è giusto che sia così, in fondo, perché non sacrifichiamo niente, né la nostra gioventù, né il nostro futuro. Però, queste ville, appartamenti, stanze, ospedali, con il loro linoleum, la luce grigia, l'odore di minestra medicinali, è merda. Tutti questi luoghi, un po' indecenti, dove i vecchi aspettano la morte, dovrebbero essere sacri. E anche i vecchi dovrebbero essere sacri. Perché sacro è terribile il momento in cui un uomo cessa di vivere. Sacro il vecchio morto tre settimane fa, dentro il sonno. E sacro il suo presentimento, che gli aveva fatto indossare per la prima volta il pigiama nuovo ricevuto in dono dalla figlia, per il suo compleanno. E sacro il vecchio morto domenica scorsa, dentro il cesso, seduto sul cesso. Dicono che si è trattato di un infarto, che gli è stato fatale la sua stitichezza, lo sforzo eccessivo per riuscire a espellere quel maledetto pezzo di pietra che lo faceva soffrire ogni giorno. E se così fosse, sacro anche quello. Ma io penso che forse è morto di crepacuore. Perché nel piccolo cesso i fantasmi si affollano. Ti stranno troppo vicini, troppo addosso. E insieme a loro si affollano i pensieri, i ricordi. Tutti pigiati con te nel cesso. Tutti a tormentarti mentre tu aspetti che quella pietra ti abbandoni. E allora puoi arrivare una mattina in cui non riesci più a sopportarlo. In cui la pietra e i ricordi sono più forti di te. E dunque è sacra quella mattina. E' sacro anche quel vecchio scorbutico e solitario, che un giorno non si alzerà più dalla sua sedia, che troveranno con gli occhi chiusi e le mani rigide sulle ginocchia, mentre la sua cuffia gli canterà ancora nelle orecchie un corone di bacchia. E' sacro fra tutti quei poveri compagni che non riusciti, non sono riusciti ad aspettare sino alla fine, perché se è straziante la follia del giovane che sceglie di non esistere altrettanto straziante e l'impazienza di quel vecchio, cui sembrano troppo pesanti da vivere persino i pochi giorni che gli restano. Ma io sono paziente, sì. Io credo che riuscirò ad aspettare. Vorrei solo poter scegliere il tempo. Ma chi non lo vorrebbe? I miei compagni dicono che preferirebbero morire in estate con il sole, con il sole che entra dalla finestra spalancata e li scalda per l'ultima volta. Io no. Io vorrei morire a Natale, con il grande albero illuminato, in mezzo alla piazza, mentre la neve cade lenta, e io la guardo a volteggiare nell'aria, in compagnie, in compagnie, dei miei due fratellini, qui e qua. E mi sento a casa, al caldo e al sicuro, con le zampe infilate nei miei scarponcini gialli, e il coprorecchie che mi stringe delicatamente le tempie, come la carezza di un figlio, bambino. e il coprorecchie Rightore, in compagnie, l'unico di un figlio, e il coprorecchie che mi stringe, che mi stringe, e il coprorecchie di un figlio, che mi stringe, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.